Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Parliamo brevemente di Elon Musk e dei suoi robot. Allora, prima di cominciare, come sempre, giù nella info troverete i link per venirmi a trovare sui social, soprattutto sul mio secondo canale, dove ogni settimana vi intrattengo raccontandovi storie di ogni genere. Mi farebbe veramente molto piacere trovarvi anche di là, però è una scelta vostra. Se siete appassionati al mistero paranormale ufologia, allora date un'occhiata. Inoltre, trovate anche il link per il canale Telegram e vi chiedo, come sempre, di diffondere questi video, solo se li ritenete interessanti, se pensate che possano essere uno spunto di riflessione anche per altri. Ringrazio tutte le persone, o meglio, quelle poche persone che già lo fanno, perché so che ci sono, e vi ringrazio in particolar modo con tutto il mio cuore. Allora, Elon Musk. Elon Musk è pronto per lanciare il suo Optimus, robot umanoidi chiamati Tesla Bot, che verranno impiegati all'interno delle sue fabbriche. Quindi, inizialmente, questi robot, e se non erro, verrà presentato il tutto ad ottobre, il 30, adesso non ricordo la data esatta, però lui è già pronto per integrare a tutti gli effetti questi robot nelle sue fabbriche. Aspettate però inizialmente nelle sue fabbriche. Elon Musk ha dichiarato che l'obiettivo a lungo termine di questi robot sarà quello di impiegarli, ovviamente, nelle case delle persone, nelle case della gente, per preparare la cena, folciare il prato, prendersi cura degli anziani, e anche come partner sessuali. Quindi, inizialmente, verranno testati nelle sue fabbriche, e poi verranno, o meglio, questo è lo scopo, impiegati nelle case delle persone. Ogni volta che penso a questa visione futuristica, mi viene in mente il film Io, Robot, con Will Smith. Lì vediamo proprio la società umana e questi robot convivere. Vediamo robot che aiutano le persone a portare le buste della spesa, vediamo robot che aiutano le persone a fare qualsiasi cosa, robot anche in casa delle persone che preparano i pasti, che servono i pasti, e poi, nello stesso film, c'è una ribellione di questi robot, ma perché? Perché si va a mutare un qualcosa nel software generale di questi robot, che poi si trasformano praticamente in delle bestie assassine, che anziché aiutare le persone, cercano in tutti i modi comunque di abbattere. le persone. Ora, a me, sapete come la penso su Elon Musk, queste sue idee, so che ci sono anche tanti che apprezzano Elon Musk, queste sue idee innovative, questo suo desiderio di portare la tecnologia a livelli sempre più alti, e qui si parla comunque di robot che addirittura sono in grado di preparare la cena, tenere in compagnia le persone, addirittura le pone come partner sessuali. Qui stiamo entrando, se non proprio, ragazzi, secondo me siamo già entrati nell'era transumanista, perché ormai il progresso tecnologico che vediamo anche nelle strade, è lampante, voglio dire, è ormai un'epoca transumanista, l'unica cosa che non dobbiamo permettere è al transumanesimo di prendere il sopravvento delle nostre vite, perché oggi si parte con i robot, si parte con i macchinari, si parte con gli aggeggini per monitorare la gente sulle strade, nei negozi, nelle case, attraverso le smart tv, i computer, i cellulari. Domani invece, appunto, ci potrebbe anche essere l'inserimento di microchip sottocutane, microchip qui dentro per manipolare anche i pensieri, perché ricordiamoci che in questa società ormai, ecco, anche qui il vocabolo libertà non dovrebbe nemmeno essere chissà quanto usato, ormai abbiamo esclusivamente la libertà pura di pensare, e anche nel pensiero talvolta veniamo manipolati, c'è chi viene manipolato di più, c'è chi viene manipolato meno, però anche il nostro pensiero è manipolato da queste persone che dicono di voler comunque proporre all'umanità delle cose positive, quando poi alla fine sappiamo benissimo che così non è, perché all'inizio tutto quanto sembra bello, tutto quanto sembra positivo, poi invece esce il marcio di tutte queste invenzioni, di tutte queste trovate, di tutte queste loro strambe idee. Ora, io non so come vedo una società in cui robot e umani convivono, questa visione non è che mi entusiasma più di tanto, ovvio, vedere un robot che ti prepara la cena è sempre un qualcosa che giustamente dici, beh, l'ho visto solo nei film, adesso che si presenta nella realtà fa effetto, perché ragazzi, ora io posso pure essere contrario a questo progresso tecnologico, perché ovviamente è l'uso che fai della tecnologia a determinare se è positivo o negativo, però io non mi fido, no, di questi soggetti, quindi nella mia mente penso che costruiscono o vanno comunque ad inventare tutte queste cose per un fine ultimo. Questo fine ultimo, per quanto mi riguarda, per me Sara, poi ognuno può pensarla a proprio modo, non è un fine positivo per l'umanità. Quindi io guardo queste invenzioni sempre con mille punti interrogativi, però da un punto di vista tecnologico, è ovvio che questa tecnologia affascina, è affascinante vedere un robot che fa tutto per te, però anche qui non è un qualcosa di normale, cioè non è una cosa normale avere un robot che fa tutto per te, cioè voi immaginatevi in casa un robot che fa tutto quanto per voi, non lo so, boh ragazzi, boh veramente, forse vogliono portare l'umanità ad essere tipo dei micetti accondiscendenti a qualsiasi cosa e lasciate lì davanti ai film ad ingozzarsi, percentuale dell'obesità che tra l'altro è in aumento, chissà quanto ancora aumenterà. Adesso con tutte queste cose tipo Netflix, con tutte le persone, perdono anche un po' di vista quella che è la vita, la loro vita, i contatti, la natura, magari preferiscono guardarsi una serie anziché uscire, anche lì quelle cose vanno guardate o vanno utilizzate con cervello ed intelligenza, ragazzi, quella non è la vita, quella non è la vita. Ok, ci può essere una serie che vi piace, certo tutti quanti magari abbiamo una serie che ci piace, un film che ci piace, però fossilizzarsi in modo assurdo su queste piattaforme come Netflix, non è salutare, non dimenticatevi di avere una vita, non dimenticatevi di fare una passeggiata, non dimenticatevi di queste cose, perché sono piccole cose che possono rendere la vostra vita migliore. Quindi questi robot io non mi fido, certo è questa tecnologia ha comunque il suo fascino, perché ce l'ha per carità, però a me non è entusiasma chissà quanto. Voi che cosa ne pensate della trovata di Elon Musk? Fatemi sapere tutto sotto nei commenti, vi auguro un buon proseguimento, e noi ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!